Emiliano Bengasi è un laboratorio stilistico all'avanguardia la cui produzione è interamente italiana ed interna all'azienda. L'azienda di Emiliano Bengasi nasce nel 1968 grazie all'intuizione della mamma Dina Bengasi che appunto avviò questa attività in un piccolo atelier di appena 3 metri quadri. Gli abiti vengono realizzati direttamente da Emiliano che crea tutte le collezioni grazie alla maestria di sarte professioniste che realizzano tutti i vestiti seguendo i vari processi di lavorazione quindi dal bozzetto fino al cartamodello e alla realizzazione dell'abito finito compreso il ricamo. Il lavoro all'interno dell'azienda è sempre particolarmente stimolante grazie soprattutto al fatto che si tratta di un lavoro creativo, un ambiente amichevole, giovane, frizzante e sicuramente stimolante. È anche un lavoro che guarda spesso al futuro prendendo spunto appunto da quelli che sono i temi attuali e molto in voga come ad esempio la tutela all'ambiente e alla natura. Tanto che negli anni abbiamo realizzato capi all'avanguardia seguendo proprio questa linea della salvaguardia ambientale con l'inserimento di tessuti 100% naturali come il bambù, la canapa e l'ortica. Il consiglio che posso dare ai giovani che vogliono intraprendere questo lavoro è comunque di impegnarsi e di non arrendersi mai perché poi alla fine i risultati arrivano sempre. È un lavoro comunque dinamico in cui ci sono diverse fasi in cui non ci si annoia mai. Numerose sono le soddisfazioni che potrete avere quindi impegnatevi con forza a raggiungere i vostri obiettivi e sicuramente i risultati li avrete.